Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma ci sono due chilometri di coda per un veicolo in avaria. Sulla Fibili per Lavori un chilometro di coda tra Ginestra, Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze, rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori sul viadotto Sandonato scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola al chilometro 61.2 restringimento di carreggiata per Frana nel comune di Lastra a Signa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!